e tu al canto si in un bravo uu guaiu cazzo veri salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Doran di Doran Red qui con me c'è il signore il signor Alcantos mamma mia l'ha detto due volte Alcantos Alcantos ragazzi questa è la nostra vetrata la casa è finita l'abbiamo finita da poco appena stavamo per registra mancava solo i vetri quindi l'abbiamo completato ragazzi questa è la nostra piccola casetta è fatta questa casetta ora non abbiamo più un cazzo da fare giusto ma con di rondelle mo dovremmo fare qualcosa di un po' più più potente va dai coltivare 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 la marivana sai o ce l'abbiamo il coso delegante ah è vero è vero è normale perché mi hai preso allora questo episodio dovremmo fare un cazzo a parte quello è sempre allora in questo episodio dovremmo non lo so che stavamo sinceramente non lo facciamo niente dall'alzatele non abbiamo né ferro né diamanti quindi dovremmo andare a minerare 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 bellissimo questi ragazzi abbiamo finito il campo di grano tipo che c'è l'epola sicuramente in questo campo visto messo a cazzo così tipo napoli con l'amianto sotto per il resto abbiamo anche le mucche che sono ok spero a parte che le ha fatto saltare una certa persona non faccio nomi l'ha fatto saltare in aria accanto da una rete ah sei stato tu vabbè raga abbiamo finito queste cose io direi di andare un po' a martellare la terra no la terra le grotte le grotte prendiamo un po' di materiali e in questo episodio cerchiamo di fare più cose possibili recupera tutti i materiali e costruire una cosa che mai nessuno ha costruito su minecraft che cosa non lo so tu? ma guarda che succede premi tasto sinistro con l'ascia vicino alla porta guarda cosa faccio tipo va rilento l'ascia non so perché non andare innanzi mamma ci sono attacchiosti qua eh c'è la nostra roba c'è la nostra roba niente infatti non abbiamo niente ma aspetta giù c'è una cassa che c'è capito? capito? che cos'è qua? guarda ti avevo visto il bello e buono che uscivi da dietro mi sono cacato tutto ma è solo da un'altra parte aspetta guarda valerio calma è un buco sbagliato quello non ti preoccupare eh infatti stavo domando io beh eh che ho detto io stavo domando una cosa eh si sai è sbagliato dobbiamo andare sul bordello ma è qua c'è la lava pericolosa abbiamo deciso di fare un'altra fossa gigantetta ah non è finita qui c'è che c'è siamo? vedrei ma che poche vai avanti siamo 8 ma non hai l'attesa giusta questa no vieni qua vieni qua vieni qua no ma non hai l'attesa giusta ma non siamo andati qua poi vieni segui ti sei dimenticato dove noi veniamo? no vieni segui porco giuda perchè si blocca? guarda dai di conto quello che abbiamo fatto qui? ma che cazzo di toporagni siamo? ma che cazzo dobbiamo combinare? ma poi non si capisce niente non ha senso non ha senso non so come siamo riusciti a tornare indietro ma infatti in mezz'ora mi sono perso ah tu vieni qua vieni a vedere cosa c'è c'è un'altra cesta con 10.000 cosa all'interno ah qua c'è stava la caverna eh dove tu non posso mai morire ah no mi chiedevi a prenderci un carbone ah no avevo capito ti chiamano da quando è uscita sta cosa non lo so oh lei ne ha presa fuoco e lei ne ha presa fuoco mamma mia stasera si mangiai bene allora qui non sono mai andato voglio andarci visto che c'era la lava che bloccava quindi non c'è un cazzo però c'è carbonesa visto che a te serve carbonica lo prendo no? Sì sì, ma non è che serve a me, serve a te tu Allora tu, ma io non consumo carbone Cazzo no, e come fanno a mettere le torce? Wow, quanti cazzo di creeper Quando è andato al mare, che il mare dice no, sono chiuso per ferie Vabbè, tu dici il kebab Kebab Ma dove cavolo devo andare, vedo te Non si vede un cazzo qua? A mettere una cazzo di torce qui? Oh, io l'ho messo, vedo Non credo che sia venuto Ma si vede che sei andato all'altra parte No, non so, io sto seguendo... niente Oh, porco giuda Ah, ma non ci sa niente, ho trovato solo un po' di ferro e carburo Aghia Ma sei sceso sotto la grotta proprio Dove ho trovato il primo diamante No, non mi ricordo dove ho preso il figlio Vabbè, non giochiamo da... Aghia Sono caduto nel... Da due settimane, dico Ho dimenticato... Senta, più l'altro, lo senti Io ti dico da persona formale Senta Senta E lei che non c'è mai Io, io quando voglio agitare No, no, sono nuda Devo preparare, mi devo fare bella Cosa? Mi devo fare bella Devo farmi i capelli Senza? Aghia Aghia A trovare Oh, vicino alla lava Sta sempre... Ma lo sai che c'è un creeper Soprattutto che ti sta seguendo Sta venendo verso di te Ah no, verso di me Capisco Dove è andato? Eh, nella lava No, non è andato Eh ci sta Questa è caduta così libera Comunque lì c'è tanto ferro C'è tanto ferro Ma possiamo chiudere questa fonte d'acqua? No C'è un secchio d'acqua No È l'88 ormai Lasci che io sia La tua pietra più grande Oh Oh, stai attento Stai attento, stai attento Oh mio dio Stai a combi di cacca Sta un creeper là sopra Quanto odio il nuovo combattimento Sta un creeper là, eh Ma c'è tanti Ci sono tanti minerali Potremmo prenderli tantissimi Eh, bene Ma la pietra rossa ci serve Vabbè, ne abbiamo un sacco là sopra No, no, prendilo, prendilo Ma non lo possiamo prendere Perché te ne dobbiamo servire Il piccone di terra, vale Oh, è il diamante Uh Allora, io ho paura di cadere nella lava Noi rimaniamo scettati tutto il tempo Dove sta? Ah, sì Non è che ho visto male Ah, sì Ah, sì Ah, comunque qua torno dovrebbe stato Ma quant'è cavolo di lava c'è qui torno? Che bel cassero l'ho Perché c'è tutta sta lava? Vale, che ne so io Così si genera Ma lì, guarda, c'è un buco nero Mi attira molto Guarda Buco nero Eh, guarda Là giù lo vedi anche tu quel buco nero No C'è un buco nero davanti, oh Ma lei non lo vedi il buco nero Dove? Là Dove sta andando? Ok, avevi ragione È un glitch Ma qui c'è tantissimo ferro Dove sto io? C'è tipo Una ventina di cubi Ok, così posso raccogliere tutto il ferro con calma Senza morire Poi la cosa divertente di questo gioco È che Quando muori Tipo ti scende la madonna dal cielo Ora abbiamo anche pietra a lei Vabbè L'ossidiana è da prendere qui È anche un sacco Grazie alla mia intelligenza Tu cosa ne pensi, signor Natalcantos? Sto uccidendo tre zoom con me Vabbè, tu uccidi io, stai Vediamo un po' cosa c'è qui C'è uno zoom Muori maledetto Muori maledetto Muori maledetto Madonna, quanti ce ne sono? Ormai sono diventato bravissimo nel combattimento Anche su Minecraft Olè Madonna, bellissimo Qua se vieni dove sto io Stai un sacco di Di fermo Mi sono trovato un'altra parte C'è un creeper Ho trovato una mega grutta dove sto io E c'è solo un creeper E poi ho trovato un creeper Il creeper non mi ha visto lì Io l'ho visto ma lui no Quindi In pratica E' una cosa molto positiva per me Perché il creeper giustamente non ha visto i miei occhi grandi come il cielo Olè Non si è innamorata E infatti questa cosa è un po' preoccupante Vale quanto durà? E dopo dobbiamo Eccomi allora I pezzi che ho preso di ferro sono 20 alla fine Più che altro ho preso molto carbone Ma cosa è successo? Ma dove sei? Io ho comattuto contro i... Che sta succedendo? Ma dove stai? Io sto un attimo... Andando... Da qualche parte Ah sei là sotto? Sì sto levando tutta la lava Che potrebbe essere pericoloso E la sto rimanendo in punti che non dovrebbe essere pericoloso Ma cosa? Perché con il piccone di ferro stai facendo? No Di pietra Non lo sapevo Ah Qua è sto un creeper là giù Ma... Ma io qua non... Vieni a vedere qua sopra Hai un attimo Che te è da un bel appare la tua testa Sì ho qua la storia Oh! Due creeper! Uh! E' uccidere che ce ne stanno due Eh no non c'ho poca vita Cioè non è senso un po' sovofame basso E' ho perso già due o tre quattro Oh wow Vabbè di morire tipo così No abbo ma non mi ha colpito Lo sposo davanti a lui Ma allora ci serve a qualcosa? Allora ci serve a qualcosa no Però prendilo Comerciale 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 E' con i villageri Ah ho davvero anche loro Uno Ma i villageri ti danno anche la paglia La paglia La paglia Cazzo uno se ne fa la paglia Chi diceva i villageri? Questo è l'occhio bello Questo è il suo fratello Questa è la chiesi Non farmi male a un culetto Perché mi piace la panna Che ballo dentro nella panna Pivistrello di merda Vale ma tu non combatti mai? Ora ci sono tanti mostri Che quel cazzo non combatto mai Vatti a vedere sto gameplay Io sono entrato in una crotta Dove non c'è un cazzo E ora sto scemo Ma sembra mai che non c'è mai nulla In queste crotte? Cioè è impossibile Siamo proprio sfortunati In questo caso Cioè trovare proprio niente E' vergognoso Direi un po' Però sembra strano Capì? L'altizia ci sta Capì? Boh non lo so A me non piace Questa situazione che E' creata Non troviamo nulla Non troviamo meno Non troviamo nulla Non troviamo nulla Bastardo Creeper di merda Ah ma c'è una me Bastardo Creeper di merda Non lo dice più Andiamo Immagina Che cosa è abbastanza lontano Che non ho sentito L'esplosione Però vedo Il tuo nome Da qui piccolissimo Quindi non sei molto lontano Ma io non ti vedo nemmeno Ah ecco Stavo per cadere giù Metti l'acqua Ecco Oh che cazzo è? Sembrano altre torce Assolutamente Eeeh C'erano altre sette Oh mi ci posso dare Che c'è questo qua? Oh guarda qualcosa laggiù Dove? Da Ah sembrava una persona Allora lo scredo non mi ha beccato Quindi ora scaviamo Assolutamente No vai vai Fammiare il combattito a me Eh ma tanto non c'è il pvp Eh però lo dimentico Che cazzo è? Ma io non ho cazzo Che brutta situazione di merda Che stai facendo Oh nooo Ho uscito da prendere Ok 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 Ho fame Io c'essavala No niente C'era un tappi Cioè noi abbiamo quasi perso tutta la vita per niente Però uno zombie è uscito da qui Eh no si va da sopra Sopra ci sta Oh 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 Quanta vita c'hai? Eh no no tutta quanta Ah ok Stai rotto Stai venendo il creeper esatto Mamma mi ha acciuso quasi Mi ha dato tre culi mi ha dato Mi ha acciuso quasi Come se ti avesse colpito In modo così grave da togliersi C'è un ragno I ragni lo sai che scavalco Eh ma infatti l'abbiamo visto insieme Eh Vabbè Eh ne hanno fatto bello sta cosa Mi è piaciuto Wow tengo il 59 ferro Cioè la memoria di una capra Vabbè quanto carbone e oro c'è qui Vabbè a prendere la roba Ma dove sei morto non lo so nemmeno Eh torna indietro Wow 60 di ferro Eh vale Eh devo andare indietro Oh dove sta Dove sei Do tu Che abbiamo messo l'acqua insieme Ah ok La La sei morto Eh più ne paraggi Ah perché sei morto Che l'enderman Io poi stavo Ah non ho visto la tua roba Stavo sotto due cubi Perché mi ha Oh Quanta cazzo di roba Quanta cazzo di roba c'avevi Eh no voga Eh perché voglio fare le cose particolari Tre cose sono rimaste a terra Per cosa E cose particolari Che tu ti sceglie Oh contro l'endere Voglio le uccidere Ah segnali Dai cibo Dai cibo Sì ti do tutta la tua roba Tieni 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 Non mi saranno niente di utile La spada Oddio Girati Girati Oh ok 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 Pala 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 E' l'altro quale Cioè Che ci stai a fare tu? Oh Oh Mazzo di me Aiuto Ok Boom Fa tutto al signor Valerio Bene ragazzi Siamo arrivati a registrazione tipo di Quasi 40 minuti Ci fermiamo qui Anche se Attualmente in questo episodio Siamo solo Andati Dammi le docce Siamo andati solo alla ricerca di diamanti E siamo alla ricerca di Ancora di diamanti E altri minerali Che servono assolutamente E che dobbiamo Espanderci E diventare sempre più forti Mamma mia Diventeremo sempre più forti Non è vero proprio Siamo scarsissimi per ora Anche si questo è vero Soprattutto tu poi Comunque ragazzi ci vediamo Ma è perchè mi faccio Mi fai combattolo a me Non è vero Ma piano ma guarda che ho trovato Come fuori Guarda quante ho trovato Oh che cazzo Ma io non lo so viso Ma io non ne so viso Ma c'è quello di doste Vai a hm Nel prossimo episodio Ci vediamo nel nostro episodio E massacriamo tutti i mostri Hahahaha Che simpatia Ubb Tocaduto Creeper Porca vacca Cant